Dopo un lungo peregrinare durato oltre 70 anni, è finalmente tornata in Italia alla Tavola Doria, raffigurazione della lotta per lo stendardo, un momento della battaglia di Anghiari di Leonardo da Vinci. Messo all'asta nel 1939, tra il 40 e il 41 il dipinto esce dall'Italia, ed è latitante da allora, fino all'attuale individuazione da parte degli uomini del Comando Carabinieri tutela patrimonio culturale presso il Tokyo Fuji Art Museum, che l'aveva acquistato in buona fede e che ha deciso, dopo complesse trattative, di donarlo all'Italia. Attualmente la Tavola è in esposizione al Quirinale e vi resterà fino al 13 gennaio 2013. Grande entusiasmo, perché un capolavoro assoluto è tornato in Italia. È merito dei Carabinieri, dei magistrati, dei funzionari del Ministero per i beni e le attività culturali e anche della generosità dei giapponesi. Adesso questo dipinto, esposto per volontà del Capo dello Stato nel Palazzo del Quirinale, potrà finalmente essere studiato dagli specialisti del 400 e del 500 e ammirato dai cittadini d'Italia e del mondo. Com'è impostata la trattativa adesso con il Museo Giapponese? Con il Museo Giapponese la trattativa è chiusa, nel senso che l'opera è stata donata all'Italia, verrà analizzata molto attentamente dall'Opificio delle Pietre Dure e questo ci consenterà degli scambi culturali con il Giappone in maniera strutturata e progettuale. L'opera, dopo essere stata esposta in Italia, viaggerà come previsto dall'accordo siglato con i giapponesi, andrò in Giappone nel 2014, tornerà in Italia e tornerà anche un'altra volta in Giappone. Questo è un bel esempio di collaborazione internazionale, mi preme sottolineare questo, è un bellissimo esempio di collaborazione internazionale basato sui nostri tesori d'arte. I nostri tesori d'arte sono un capitale immenso che dobbiamo utilizzare per diffondere la nostra immagine nel mondo intero. Gli scambi dureranno 26 anni e poi l'opera resterà permanentemente in Italia? Assolutamente sì e verosimilmente agli uffizi. Alcuni attribuiscono l'opera a Leonardo, altri a un pittore toscano del Cinquecento. Per risolvere la questione, la tavola d'oria è stata dal 20 settembre a Firenze, presso l'opificio delle pietre dure del Mibac, dove sono state anche effettuate indagini per definire lo stato di conservazione dell'opera e studiarne meglio le tecniche di realizzazione. Quel che è importante è che il dipinto sia finalmente tornato in Italia, ha detto il Ministro per i beni e le attività culturali Ornaghi, e ce ne prenderemo cura nel miglior modo possibile. Secondo alcuni questo dipinto è opera di Leonardo da Vinci, secondo altri non è Leonardo da Vinci ma un maestro toscano del Cinquecento. Probabilmente, speriamo, probabilmente le analisi consentiranno di approfondire queste tematiche e mi auguro di dare una risposta a questo dilemma. Grazie. 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 Grazie.